Ciao ragazzi eccoci oggi tornati con le anime news anche se nel ritardo di un giorno per via di impegni personali Comunque vi ricordo di lasciare un mi piace per supportare questa serie La serie di punta del canale, cerchiamo quindi di superare mille mi piace, confido in voi Detto questo non mi dilungo oltre, partiamo Iniziamo con il dire che questa è stata una settimana abbastanza calma per i brand più conosciuti del momento Con notizie piccoline sparse qui e là, alcune di esse però sono carine Partiamo quindi con un nuovo anime che verrà trasmesso sui nostri schermi a partire da ottobre Chi non conosce la storia di Giovanna d'Arco, uno dei personaggi storici forse fra i più rinomati E solitamente oltretutto protagonista di diverse storie Ad ottobre avremo un anime totalmente dedicato alla ragazza I cui cast e trailer sono già stati rivelati il 5 maggio Abbiamo poi un artwork ufficiale della serie, la cosiddetta Locandina Dove possiamo vedere una Giovanna d'Arco diversa dal solito Ovviamente sempre ritratta con abiti da battaglia ma abbastanza particolari Si presta giustamente ad essere un personaggio dall'aspetto giovane Perché la stessa Giovanna d'Arco, reale, era giovane quando intraprese la sua avventura tra milioni di virgolette Avventura molto triste tra parentesi Personalmente penso che questo possa diventare un anime di tutto rispetto Soprattutto per chi ama tipologie di questo tipo, come qui presente Per il poco che abbiamo visto nel trailer sembra inoltre avere una grafica ottima E la Locandina stessa presenta un character design a mio parere stupendo Restiamo quindi in attesa di ulteriori informazioni da parte di questo titolo Come al solito eccoci quindi giunti al primo momento diverso dalle news La domanda di oggi è molto semplice Vi piacciono i doppiaggi italiani? Vi invito a rispondere tramite il sondaggio che state vedendo ora in alta destra I risultati dello scorso episodio la cui domanda era se aveste mai visto un intero anime in un solo giorno Sono 2627 voti con l'86% per sì Mentre il 13% e 425 voti per no Insomma in tantissimi a quanto pare abbiamo visto un anime intero in un solo giorno Passiamo ora alla seconda notizia che vede come protagonista Sword Art Online Infatti verrà celebrato il quinto anniversario della saga videoludica di SAO Anche i videogiochi di questo brand arrivano finalmente ad avere il loro primo riconoscimento 5 anni fa infatti nel 2013 uscì per smartphone Sword Art Online Endgame I festeggiamenti prevedono una semplicissima lotteria I cui premi spaziano da action figure, fodere per il letto, portachiavi e cuscini Il prezzo del biglietto è 680 yen, indicativamente 5,20 euro Ho voluto portarvi questa notizia solo per festeggiare i 5 anni della saga videoludica Ovviamente non per farvi partecipare alla lotteria Digimon, chi nell'infanzia non ha visto questo anime? Uno dei più simbolici per la mia Come sappiamo negli ultimi anni sono andati in onda dei film sequel della saga trasmessa anni fa Il cui ultimo è stato trasmesso il 5 maggio di quest'anno Veniamo ora alla vera notizia L'account twitter ufficiale dei film di Digimon ha annunciato che un nuovo progetto del franchise Digimon ha preso vita L'account ha pubblicato un'immagine di Agumon con le scritte L'avventura si evolve ancora, un nuovo progetto ha inizio Nonostante si potrebbe rivelare una semplice mossa commerciale e non sarebbe nel primo o nell'ultimo a farlo Sono veramente felice di questo annuncio Dopo diversi anni in cui questo anime è stato purtroppo messo da parte Nell'ultimo periodo ha ripreso piede ed ora sta iniziando a spopolare Secondo momento off topic dalle news I tre episodi della settimana che vi sono piaciuti maggiormente fino al 28 aprile Vi ricordo che siamo giustamente indietro di una settimana Sono al terzo posto con 15 voti il terzo episodio di Stainsgate Zero Al secondo posto con circa 21 voti il quarto episodio di Tokyo Ghoul Re Al primo posto con 112 voti il quarto episodio di My Hero Academia Insomma chi non l'ha amato quell'episodio Deku inizia ad essere veramente fighissimo L'account twitter ufficiale di Princess Principal ha annunciato che nel corso del 2019 Vedremo 6 film sequel dell'anime Il progetto sarà interamente un nuovo lavoro E parlerà di una storia successiva alla fine della serie animata È stato inoltre pubblicato un video trailer per annunciare il sequel Personalmente un anime che ho apprezzato abbastanza Non vedo quindi l'ora di godermi questa nuova storia Notizia sul mondo manga Ho notato che molto spesso nei commenti dei miei video viene accennato World End come anime Ho quindi deciso di portarvi una notizia relativa a questo titolo ma rispetto al manga Quest'ultimo finirà con il prossimo volume il 26 maggio La stessa ambienta in un mondo dove l'umanità è stata sterminata centinaia di anni prima Rispetto alle vicende che vediamo svolgersi all'interno dell'anime Sterminata a causa di creature chiamate bestie L'ultimo sopravvissuto Willem si sveglia in un mondo dove più nessuno si ricorda della sua razza Ormai scomparsa da tempo Non avendo qualcosa per cui vivere non fa altro che spostarsi di posto in posto Arrivando in un punto dove conosce un'arma per combattere queste bestie Armi che però sono delle persone, quest'ultime sono destinate a combattere finché non muoiono E non sembrano provare paura per questa cosa Il secondo film è di Fate Stay Night Evensville intitolato Lost Butterfly e riceve finalmente la locandina ufficiale Locandina che nasconde tantissime informazioni sulla terza route di Stay Night Il primo film della trilogia ha riscosso un discreto successo in patria ed è stato trasmesso più volte nei cinema Quindi ragazzi come detto anche inizialmente le notizie di oggi sono state molto poche Per quanto riguarda i brand più acclamati di questi ultimi anni Ci sono state però diverse notizie secondarie tra mille virgolette alquanto interessanti a mio parere Spero quindi che il video vi sia piaciuto e se è così invito a lasciare un mi piace, un commento facendomi sapere la vostra E ad iscrivervi se non siete ancora Un saluto a tia, ciao!